Con il microfono sarebbe meglio. Con il microfono sarebbe meglio. Enzo Nacca, vediamo che è il membro della commissione del mercato. Si schiaccia il tastino. Si schiaccia proprio bene. Sono Enzo Nacca, sono un operatore del mercato I. Volevo precisare alcune cose. Sono concordo con quello che è più strato nel dottor Tolmeng, per quanto riguarda il fatturato e gli utili. Per quanto riguarda il fatturato del mercato, però volevo fare una desiderazione che è molto importante. Per quanto riguarda l'estero, non è esatto dire che c'è stata una diminuzione. Il fatto è che, e questo lo ripartisco, lo vedo anche in altre sedi e in altre periodi, è che il fatto che all'interno del mercato non c'è nessun controllo dell'area esterna del mercato, questo purtroppo ha svantaggio nostro come operatore e ha vantaggio delle casse del cliente gestore, moltissima merce viene trasferita, merce che viaggia con il documento ufficiale, sto parlando di merce che viaggia in maniera regolarissima, che però non essendoci il controllo fatto, come veniva fatto quando c'è il controllo dei vigili, del comando dei vigili, molta merce evade quella che è la competenza, la provvisione che deve essere pagata, la rende gestore. Io, l'operatore, posso solo osservare che non è veritiero che la merce estera è in diminuzione, devo piuttosto dire che è convogliata in altri siti. E questa è una cosa che fa male a noi operatori, perché ci toglie la possibilità di poter anche noi usufruire quelle che sono le cassezzuali di provvisione e, ancora peggio, a quelli che sono gli utili che potrebbero rimanere per essere settile dei gestori che non vengono pagati. Per quanto riguarda invece il locale, sì è vero, c'è stata una piccola percentuale al momento del pescato e questo dà ragione a chi per anni, soprattutto per la tutela militare della mostra, di rispettare quello che è l'area di pesca, 3 miglia o 6 miglia, dipendentemente dal periodo di autorizzazione, e questo è importante. Un'altra cosa. L'Utlie, ben parlava di Dottor Termetti, diceva che, annendo dei costi, noi siamo imprenditori, siamo abituati a controllare giornalmente quello che avviene all'interno della nostra agenda, volevo precisare che dal 65 ad oggi il mercato è sempre stato in attivo e con questi soldi il mercato si sarebbe potuto costruire senza chiedere niente a nessuno. e questo lo volevo dire sicuramente perché con il nostro lavoro, con il lavoro di tutti, chi lo gestisce, chi opera, i produttori, i pescatori, tutti, il mercato ce lo saremmo potuti costruire, non dico con le maniglie d'oro, però con le strutture fatte e adeguate per quelle che il nostro modo di lavorare è quello che è invariare il lavoro, perché da quelli che sono, non dico in condizioni, ma quelli che sono in modo matrimo e comunitario dettate dalla CER, da Rossella, purtroppo il nostro modo di lavorare, di operare, di commerciale, deve seguire tutte queste indicazioni, di queste lezioni. e il mercato nostro in questo momento non ha più le caratteristiche, le strutture e l'organizzazione tale da poterci far crescere come vorremmo farlo. in un ultimo pensiero concludo, perché dovrebbe essere la volontà, la volontà della costruzione del mercato. I pareti sono chi dice che costruiamo in Alighiero, chi lo vorrebbe fatto in un altro luogo e comunque sempre nel territorio di Chiorgia. Questo lo dicevo prima a un collega, sappiamo che in Italia se si costruisce qualcosa di provvisore poi il provvisore diventa definitivo, però è anche vero che è preferibile avere qualcosa di nuovo provvisore che diventerà definitivo che non avrebbe voluto. Grazie.